Allora, rieccoci alla nostra postazione. Ho già tutto il necessario pronto per iniziare a pitturare i nostri intercessor. Prima di fare questo, diamo un'occhiata alla nostra guida su come vanno pitturati. Ok, trovo piano di lavoro spazioso e sgombro, accertati che la superficie sia protetta in caso si rovesci qualcosa. Ti serve una boccetta d'acqua per sciacquare il pennello e un tovagliolo per asciugarlo. Ok, più che giusto, io ho messo un foglio di giornale, poi vedremo le superfici che utilizzerò. Una boccetta d'acqua per sciacquare il pennello e un tovagliolo per asciugare. Allora, io aggiungo un piattino di plastica da utilizzare come palette. Probabilmente lui qua ti fa dipingere direttamente dalla boccetta. Sì, infatti, ma non è la cosa più indicata da fare. Questo direi che è proprio un consiglio sbagliato. La cosa migliore da fare sarà sempre recuperare un po' di colore dalla nostra boccetta con il pennello e posizionare il colore su una palette, in questo caso il nostro piattino di plastica e poi andarlo a diluire con un po' d'acqua. E' sbagliato passare il colore, soprattutto questi colori qua, che sono molto spessi, senza diluirli. E poi, altra cosa, ci dice di passare totalmente la miniatura con il blu. Da un certo punto di vista, seguendo questa guida, può essere anche giusto perché in questa guida non ci fa passare il colore di fondo e quindi la base, il colore base, in questo caso il MACRAGE BLUE, secondo questa guida diventa il colore di fondo. Allora, quindi il problema è che questo pennello è un pennello starter e standard come dimensione ma non è indicato per questo tipo di operazione. Rischiamo, intanto, di metterci, ci metteremo sicuramente un sacco di tempo a coprire un'intera miniatura con questo pennello e in più rischiamo di rovinarlo, anzi, molto probabilmente lo andremo a rovinare. Per una operazione del genere un pennello a spatola che adesso non lo trovo, ma ce l'ho. da qualche parte sarà vabbè, fa niente, lo troverò. Comunque, anche semplicemente un pennello più grande è più indicato per questo tipo di operazione. Va bene, poi per il resto direi che ci siamo come guida. Dopo aver passato la base ci fa dare il colore di base per il nero e poi i dettagli con l'oro. Ok, quindi questo la metterò da parte. Ora, andando a vedere i nostri modelli vediamo il risultato di quello che è stato il passaggio del colore di fondo. Sono mediamente soddisfatto di questi. Devo dire che sono rimasti molto meglio i i plug marine. Allora, questi hanno subito in minima parte uno dei grossi difetti che possono capitare quando si passa il colore spray che si chiama frosting. Ce n'hanno un pochino purtroppo. Il frosting dall'inglese glassatura diciamo è un difetto forse in questo qua si vede un pelo di più in questo no, in questo forse a parte che non so se riuscirete a vederlo. Praticamente cosa succede? Che il colore passato con lo spray si trova nella bomboletta in forma liquida perché la bomboletta è sotto pressione. nel momento in cui agiamo sulla valvola liberiamo il colore che proprio trovandosi sotto pressione viene spruzzato all'esterno in forma aeriforme. Questo è quello che dovrebbe succedere. Cosa può capitare? Che se l'ambiente in cui andiamo a spruzzare il colore è troppo secco il colore anziché venire steso in maniera uniforme sulla superficie può creare dei piccoli grumi piccoli o grandi grumi a seconda di quanto magari non ce ne accorgiamo che il colore non sta venendo posizionato bene e quindi alla fine sulla nostra miniatura si creano dei grossi grossi grumi come un aspetto polveroso che però diciamo magari andandosi a stendere su una superficie che è appiccicosa perché comunque vernice ecco qua si vede abbastanza bene sulle gambe non lo so io vi avvicino un pochino ma non so se riuscirete alla fine a vederlo comunque così dovreste forse vederlo sulle sulle gambe si va a fissare in pratica questa polvere di di colore creando questo aspetto diciamo polveroso sulla miniatura allora se non è molto marcato va andrà diciamo a sparire con le successive passate di di colore se invece è veramente molto marcato purtroppo l'unica cosa da fare è cercare di rimuovere il primo questo strato e rifare tutto da capo in questo caso sono stato relativamente fortunato perché non è molto pesante questo difetto i marine della peste sono venuti molto molto meglio probabilmente perché quando quando ho passato il primer a loro c'era molto meno vento il vento rende l'ambiente circostante molto secco tende a così a rendere l'aria secca c'era meno vento e secondo me il vento ha influito negativamente sulle miniature altra cosa questa vernice grigia che ho dato per esempio come vedete è venuto molto meglio su questi ma è molto lucida come vernice rispetto per esempio a questa qua e questa è proprio la qualità della tinta utilizzata della bomboletta e infatti penso che per i prossimi per i prossimi modelli di space marine andrò a cercare la tinta grigia di questa marca qua che è quella che ho utilizzato per per questi plug marine che sono venuti in maniera particolarmente sono venuti molto bene devo dire ma il video riguardante la il dipingere queste miniature sarà un altro in questo mi concentrerò sui primaris e visto che la guida utilizzava questo di space marine utilizzerò anche io questo va bene ovviamente utilizzerò i colori che ci sono stati solo i colori che ci vengono dati con il con i fascicoli che abbiamo adesso i primi tre fascicoli questo ovviamente non ci servirà il death guard green non ci serve ci serviranno questi tre colori allora io il macrage blu già ce l'ho questo qua è sigillato questo qua è il mio già aperto non sto ad aprirne un altro nuovo visto che ce ne ho già uno utilizzerò questo ma il colore è esattamente lo stesso voi utilizzate se non l'avete un altro utilizzate quello che che avete coi fascicoli ok altra piccola cosa un piccolo consiglio che vi do è l'utilizzo di un supporto per la miniatura ce ne sono diversi se ne trovano anche in commercio quello più famoso sicuramente è quello della citadel che è anche utile ma è costoso ovviamente io me lo creerò utilizzando il mio sempre onnipresente nastro biadesivo e un tappo di sughero ci vado attaccare un po' di nastro e poi e voilà il vantaggio del supporto per miniature della citadel è che quando ho finito con questa miniatura lo posso staccare prenderne un'altra e ricominciare qua dovrò andare a cambiare in teoria quel nastro lì biadesivo per due o tre passaggi per due o tre miniature diverse andrà sempre bene però che questo qua è sicuramente meno costoso ok allora visto che noi abbiamo passato il primer un'altra cosa che ci servirà sarà un piattino come ho detto della scottex me la tengo qua e due bicchierini di plastica o come volete due recipienti con dell'acqua adesso poi vedremo perché due e non uno allora dedichiamoci alla pittura è una buona idea dare una occhiata al nostro modello per vedere quali parti andare a colorare e con quale colore ovviamente per il nostro space marine ultramarines il colore sarà questa miniatura sarà quasi totalmente dipinta di blu a differenza di quanto veniva detto nella guida non andrò a colorare tutta la miniatura di blu perché io il primer l'ho passato e quindi andrò a lasciare grigie quelle altre le altre parti che andranno dipinte con gli altri colori il nero e l'oro nel nostro caso e lascerò anche qualche altra parte grigia perché la andremo a colorare successivamente con gli altri colori che verranno dati con la guida altro discorso il bolter come vi avevo già detto non ho montato tutta la miniatura prima di di darle il fondo per comodità per poter andare a colorare in parti che altrimenti sarebbero irraggiungibili per comodità visto che comunque ho le parti separate e già col colore di fondo per comodità il bolter lo colorerò tutte le braccia e gli zaini li colorerò su questo supporto ok quindi prima cosa è sempre bene dare una bella shakerata agitata al nostro colore questo per il momento lo lasciamo qua lo apriamo ce lo teniamo così questo piccolo piedino serve per tenere aperto il tappo ok allora questo pennello è uno starter come avevo già detto in qualche altro episodio l'unico difetto che ci vedo è che ha le settole molto corte e potrebbe essere abbastanza difficile andare a dipingere in certi punti con questo pennello ma in ogni caso questo ci viene dato e questo utilizzeremo ok cominciamo intanto mi piace sempre mettere un po' d'acqua subito sul nostro pennello andiamo a prendere il colore per prendere il colore dobbiamo fare attenzione non dobbiamo infilare tutto il pennello nel colore al massimo dobbiamo intingerlo fino a diciamo a metà spero si veda mettiamo sotto la luce ecco questa è la quantità forse anche un po' di più che vogliamo andare a recuperare e ce la passiamo sulla nostra bella palette conviene andare più volte il pennello è molto piccolo e quindi anche questo processo è abbastanza laborioso ok chiudiamo questo è il primo passaggio poi vado a prendere una puntina d'acqua una puntina d'acqua così e vado a diluire il colore è sempre meglio lavorare con i colori ben diluiti e fare più passaggi anziché fare un singolo passaggio con il colore magari neanche diluito e poi lo andiamo a passare a me piace cominciare dal basso dalle gambe per esempio andiamo a passare il nostro colore come vedete essendo molto diluito parte del colore di fondo rimane visibile perché la nostra tinta è molto diluita e quindi trasparente e quindi questo vuol dire che per avere un colore molto solido cosa che vogliamo dovremo fare più passaggi non tenete la vostra palette sotto la luce diretta perché ovviamente scalda e il vostro colore si seccherà prima è sicuramente un sistema più lungo rispetto a quello mostrato nella guida perché richiede più passaggi dello stesso colore ma il risultato finale sarà migliore almeno questa è l'idea farò un'area ve la farò vedere i più passaggi questo stivale qua diciamo che questo qua è il primo passaggio è il primo passaggio il colore il primo strato di colore ok questo stivale questo stivale ve lo farò vedere in tutti i passaggi così a occhio direi che ci vorranno almeno almeno minimo tre strati per avere un colore solido su questo stivale ok quindi andiamo a riprenderci ve lo farò vedere del tutto e poi magari farò un taglio sempre poca acqua sempre la punta questo pennello è molto piccolo per questo tipo di lavoro io avrei optato sicuramente per un pennello più grosso anche perché poi i pannelli le parti dello space marine sono comunque molto estese diluiamo sempre il colore un altro modo per vedere se il nostro colore è diluito al punto giusto è fare delle piccole righe per il primo passaggio non deve essere troppo diluito e quindi quando vado a fare le righe diciamo che la colorazione deve mantenersi ecco anche quando faccio queste strisce è un modo per capire se il nostro colore è diluito nella giusta quantità vedete che già il secondo passaggio forse il primo l'ho fatto un po' troppo diluito però già il secondo copre molto meglio ovviamente l'idea dei passaggi ulteriori serve anche perché quando noi passiamo il colore col pennello facciamo dei segni di pennellata un po' troppo un po' troppo denso per i miei gusti e i passaggi i passaggi che andremo a fare saranno via via sempre più più diluiti è importante questo e quindi man mano aggiungeremo sempre sempre strati sempre più sottili di colore e in questo modo andremo a ridurre l'effetto dei segni della pennellata ecco se invece il colore dovesse essere troppo troppo spesso non abbastanza diluito c'è rischio che questi questi color questi segni di pennello rimangano visibili e noi non lo vogliamo ok e anche adesso vi voglio far vedere un'unica parte con il colore ben passato ma un altro un'altra diciamo cosa fondamentale del dipingere le miniature è che le varie passate vanno date in maniera uniforme perché perché in questo modo nel senso non mi metto a fare uno stivale del tutto e poi passo a un'altra parte completamente non dipinta andrò a dipingere la miniatura con tutte le parti che devono essere dipinte di blu nelle varie passate via ecco prima una passata tutta la miniatura poi le varie altre passate in successione non è che mi metto a fare una singola parte qua volevo farvi vedere più o meno la tecnica da utilizzare su una parte limitata qua possiamo già dire che siamo alla fine della seconda passata la terza che mi è presto a fare e già potete vedere che comunque il colore già assume un aspetto più più solido più intenso ecco la terza passata che andrebbe fatta quando questo qua è completamente secco la farò con il colore molto diluito io direi che tre passate dovrebbero bastare qua dietro un pochino ancora trasparente dipende anche un po' da voi ecco logicamente se avessi dipinto il modello interamente nel momento in cui passo il colore su tutto il modello quando poi vado a ricominciare la parte dove è iniziato sarà secca e quindi il colore si stenderà meglio adesso sono anche comunque sotto la lampada quindi anche questo dovrebbe aiutare comunque facciamo la terza passata anche man mano che pitturiamo il pennello piglia meglio il colore perché quando vengono impacchettati hanno uno strato di cera che li tiene con le setole unite questa qua la voglio fare bella liquida bella liquida ci aggiungo parecchia acqua come vedete il colore non arriva mai a toccare il bordino di metallo e vedete che facendo delle strisce questo colore è molto più 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 trasparente più 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 diluito ed è proprio così che lo voglio possiamo anche in questo caso per evitare quando il colore è tanto diluito per evitare di creare delle gocce andiamo a togliere l'eccesso sul sul nostro pezzo di carta forse è addirittura troppo ancora troppo spesso ok visto che qua invece il colore è molto più assente nel retro partirò da qua avere il montello montato il modello montato su un supporto ci permette di raggiungere molto più agevolmente queste aree ok ok va bene il retro forse ha bisogno di un altro passaggio un passaggio in più dove vedete ovviamente che il colore non è uniforme semplicemente ci fate un passaggio extra sempre diluito va bene poi su questo stivale ci passeremo più avanti però per il momento già direi che il risultato non è malvagio ok adesso farò tutto il modello una prima passata di un passaggio Grazie a tutti. 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 In più, devo dipingere in favore di videocamera. Certe parti per me sono un po' complicate. Va bene. Grazie a tutti. Allora, questo braccio. Qua l'ho lasciato l'ho lasciato. E' andato a staccare. Dunque... e... Grazie a tutti. 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 Adesso appena avrò finito questo passaggio vi farò vedere com'è la miniatura dopo un singolo passaggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' anche vero che non si può fare un tutorial facendo vedere tutto senza nessun taglio. Se no sarebbe fuori qualcosa di enormemente lungo e noioso da vedere. Però almeno un passaggio è un passaggio. che richiede un tempo che richiede un tempo che richiede un determinato passaggio. secondo me. vadano ad essere copertino ad essere copertino. per avere un'altro forza, per avere uno forza. Per avere uno strato di colore in meno che sicuramente andrò a coprire del tutto e non voglio. Poi se ci facciamo una piccola sbavatura non è un problema, ma andarci a pitturare volontariamente secondo me è sbagliato. Ecco, nelle parti diciamo più sottili o d'angolo, anziché andarci con la punta per dipingerci, conviene andarci con il lato delle setole del pennello. Questo se vogliamo forse è una delle attività meno artistiche, in teoria non dovrei farle queste cose, però va bene, questa miniatura è così. Per raggiungere quella... la miniatura meno la tocco con le mani è meglio è, in pratica e anche in teoria. Cerchiamo però di farci lo spazio per inserire il pennello. Se anche poi vado a dipingere un pelino sull'aquila fa niente, sulle ali del torso non è un'aquila questa, è un teschiolato. Va bene. Mettiamolo al suo posto. Finiamo di dipingere il torso. Cerco di raggiungere tutte le aree col colore di base. Ok, e direi che il torso più o meno è finito. Si. Si. Abbiamo anche questo angolino qua. Abbiamo finito anche il torso. È solo ovviamente il primo... Il primo strato di colore. Andiamo sul resto. Un po' troppo diluito. Se dobbiamo andare a correggere la diluzione del colore, se è troppo diluito aggiungiamo colore ovviamente, se è troppo spesso andiamo ad aggiungere una puntina d'acqua magari. Semplicemente... Comunque nel dubbio è sempre meglio lavorare con i colori tanto diluiti. Più che poco diluiti. Anche la diluzione del colore è una di quelle cose che si impara con l'esperienza. E dipingendo tante miniature. Però... Se... Dovendo iniziare... Si tende magari a usare colori più... Più spessi. E invece, secondo me, è molto meglio andare sempre per aggiunte. Cioè è meglio sempre aggiungere poco. Tante volte, più che fare un passaggio singolo, che poi però rischia di andare a rovinare il risultato finale, anzi non rischia sicuramente andrà a rovinare il risultato finale. Ok, e finalmente ci dedicheremo all'elmetto. Elmetto ha dei particolari talmente minuti che lo andrò a dipingere direttamente tutto di blu. Senza curarmi troppo. Il colore di fondo serve anche a creare uno strato, intendo proprio quello spray, su cui stendere in maniera più agevole il colore dovrebbe creare uno strato abbastanza ruvido, poroso, sul quale il colore di base, questi colori qua, va a far presa meglio sul modello, che non se lo passassimo sulla plastica. Uno dei problemi di quello spray è che crea delle superfici molto lisce. Ed è anche uno dei motivi per cui penso che per le prossime miniature lo andrò a cambiare. Mentre invece quello che ho utilizzato per i marine della peste ha creato uno strato, direi, perfetto. Andiamo anche a inserire il colore all'interno. Ah, ma mancava un braccio. Stavo per dimenticare un braccio. Stavo per dimenticare un braccio. Stavo per dimenticare un braccio. certi punti sono veramente difficili da raggiungere se consideriamo che questi modelli sono anche facili quelli dei primaris non oso pensare come sarà a dipingere i marine della peste comunque sarà molto più complicato sicuramente comunque questo è il risultato dopo la prima passata allora adesso chiudiamo adesso la riaprirò molto rapidamente perché ovviamente non è finita col blu anzi siamo appena all'inizio volevo solo farvi vedere che una volta che abbiamo finito diciamo con un colore dobbiamo chiudere la nostra boccetta per chiuderla dobbiamo fare attenzione queste qua perché queste se noi facciamo così ecco magari sembrerebbe chiuse invece dobbiamo stare ben attenti per conservare il colore dobbiamo essere sicuri che sia chiusa nella sua interezza il pennello non va mai lasciato sporco di colore andiamo a passarlo per bene nella nostra acqua e poi tenendolo qui in questo modo lo andiamo a ripulire e poi se dovessimo aver finito lo andiamo anche a reinserire nel suo cappuccio e lo riponiamo va bene adesso mi dedicherò alle altre passate ma voi questo non lo vedrete sicuramente ci rivediamo quando tutto il modello è coperto come il primo stivale come potete vedere la luce si è abbassata un botto la palette è in questo stato ho cambiato l'acqua nel mio bicchiere e ovviamente ho passato i famosi tre strati sulle mie tre miniature adesso vi farò vedere i risultati dopo tre strati spero che si veda però vedete che comunque il colore è molto molto saturo ecco è giusto la parola è giustamente è saturo ok devo dire che sono abbastanza soddisfatto dei risultati questo è quello che secondo me è riuscito meglio e poi ovviamente ho fatto anche gli zaini e i bracci che erano montati su questo stecchino bene adesso ci occuperemo del nero che è l'altro colore di base ho fatto anche una leggera modifica sul mio supporto ci ho messo un po' di nastro isolante per fare presa meglio con il mio nastro biadesivo ci dedichiamo al nero l'abbaddon black ok principalmente le aree interessate saranno questa diciamo le pieghe dove l'armatura si va a piegare e basta su questa miniatura ovviamente potrei voler questa sorta di cintura la si potrebbe voler dipingere di nero giusto per farlo dare un po' di stacco tra le gambe e il torso ma è del tutto opzionale come volete voi e poi ovviamente anche su questo braccio c'è una parte di armatura dove si piega il gomito che va dipinta di nero ok quindi mi farò farò questo stesso discorso tutti i colori di base vanno dipinti più o meno nello stesso modo dato che su questa miniatura qua le aree nere sono molto ridotte a video passerò anche questo questo bolter la copertura del bolter con il nero solo la copertura perché poi al contrario le le parti metalliche come la canna dove si va a inserire la 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 il caricatore e anche il l'ottica le faremo quando avremo il colore appropriato ok quindi esattamente come prima vediamo una bella shakerata allora qua userò ovviamente il colore che ci viene dato con il fascicolo l'abadon black che è un nero il nero qualunque voi qualunque nero prendiate sempre nero sarà non ci sono differenze tra diversi tipi di nero potrà cambiare un po' la consistenza ma allo stesso tempo i colori acrilici hanno più o meno tutti la stessa consistenza io non prenderei mai tipo un colore il nero della sita dell'infatti di solito quando vado a dipingere dipingo con un normalissimo colore acrilico questo tra l'altro ce l'ho da non so quanto e funziona sempre benissimo e ha un tappo anche che tiene molto di più il colore per gli altri colori citadel tipo ci sono colori come il rosso il blu se volete essere precisi negli schemi di colore tipo per fare gli ultramarine il blu corretto quello giusto per farli è il macrag blu il nero sono tutti uguali quindi io userò questo perché questo ci è stato dato ma se lavorassi per conto mio probabilmente userai l'altro l'altro nero comunque fa lo stesso nero è sempre nero dopo un'intensa lavoro sul blu potete già vedere che questo pennello già sta cominciando ad aprirsi già c'è una setola che non sta più al suo posto e non penso che durerà questo pennello non credo che riuscirò a farlo durare oltre questi modelli questi primi primari infatti per i prossimi nel prossimo tutorial che si riguarderà i plug marine penso che andrò a comprarmi degli altri pennelli non della sita dell'ovviamente stesso discorso di prima teniamoci a portata il nostro pezzo discotex e andiamo a dipingere questa parte qua forse l'ho diluito un po' troppo ma va bene uguale se vogliamo il trucco per cercare di non sbavare con questi in queste poi le cose cambiano da zona a zona però il trucco per non sbavare è posizionare la punta del nostro pennello al centro e poi muoverci verso l'esterno andando a coprire l'area non ancora dipinta ok potrei questo colore lasciarlo leggermente diluito non totalmente saturo perché intanto non voglio che questa parte dell'armatura quella dove si piega sia completamente nera ma che sia leggermente grigia con ovviamente i recessi più scuri dato che è un'area molto più piccola vado a togliere il colore dal pennello in modo da avere una punta più definita e quindi un controllo maggiore su dove va a finire il colore in pratica il vantaggio di lavorare su una zona più piccola che ovviamente la zona in questione si va a coprire meglio infatti penso che per questo passaggio del nero non saranno saranno necessari due 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 strati di nero anziché tre come prima ovviamente più l'area è grande più più strati bisogna fare per coprirla bene qua probabilmente andrò a sbavare un pochino quindi poi andrò a correggere col blu ok comincia alcune parti sono veramente difficili da dipingere con questo pennello che benché piccolo è un po' sul tozzo ok per esempio qua una brutta sbavatura ma tanto andiamo poi a correggere bene ci sono dei punti che praticamente è impossibile non sbavare se io avessi dipinto passato il modello con una base nera magari in quei punti lì non ci andrei neanche a dipingere perché tanto il nero crea un'ombra ecco facciamo il davanti ok anche qua sulla conchiglia dell'armatura ho un po' sbavato va bene c'è qualche sbavatura qua e là ma purtroppo è abbastanza inevitabile a questo stadio ok passiamo al braccio e con questo pennello ci vuole un briciolo di mano ferma ma in realtà anche per quello anche per avere la mano ferma c'è un trucco e il trucco è avere un appoggio quindi per esempio se io adesso vado a pitturare in un punto molto piccolo avrò bisogno di stare molto fermo con la mano quindi per farlo cosa faccio mi vado ad appoggiare con le dita che non uso per reggere il pennello per esempio potrei appoggiare il mignolo sul supporto per la miniatura adesso è una cosa che faccio abbastanza istintivamente e adesso che ci provo a mostrarlo non mi riesce bene però il concetto è quello probabilmente non si vedrà niente si viene istintivo con l'esperienza però si il trucco per avere una mano ferma è appoggiarsi mi posso appoggiare a un altro dito per esempio si così oppure posso appoggiare la miniatura in un punto del tavolo dovete trovare voi il vostro sistema vedete anche qua istintivamente mi sono andato a appoggiare col mignolo su sempre sull'impugnatura senza neanche pensarci qua mi appoggio sul pollice per esempio nel mio caso il mignolo fa da supporto al resto della mano e in questo modo riesco a mantenere la mano più ferma metto però una ombra artificiale sotto la suola adesso se notate mi appoggio col mignolo sull'indice è tutto così però io l'ho fatto senza minimamente pensarci va bene facciamoci anche la cintura nera giusto per dare un po' più di per non fare un blocco troppo blu ok facciamo anche non so se farle di metallo quelle no le cinghie le facciamo nere facciamo nere anche le cinghie questo può questo parte di video può essere utile anche forse la parte più utile è far vedere come ci si appoggia per dipingere ops le miniature bisogna trovare il giusto appoggio facciamo un secondo passaggio ma solo in queste zone qua dove secondo me sono un po' troppo grigie con il colore ben diluito è inutile che tanto rimane sotto il modello non è che dobbiamo stare troppo a preoccuparci ok e così abbiamo il nostro modello con le parti nere dipinte queste tasche ah sapete cosa facciamo anche quel piccolo cavetto che porta al all'elmetto stavo dicendo le tasche le lascio volutamente grigie nella guida credo che siano dipinte in nero di nero dato che questa miniatura è particolarmente con dei toni freddi è per lo più blu che già di per sé è un colore molto freddo e poi sarà dipinta con col nero ci sarà un po' di oro ma i colori metallici sono un po' un discorso a parte approfitto di quelle tasche per magari dipingerle con un colore che va a contrastare questa freddezza generale della miniatura si rimarranno dietro ma in ogni caso la miniatura comunque è un qualcosa di tridimensionale quindi insomma è vero che la parte fondamentale è davanti però in generale avere qualcosa che contrasti con il tema generale della miniatura è utile e fa guadagnare di qualità alla miniatura quindi le tasche le andrò a dipingere con un colore tipo color sabbia o con un color cuoio molto chiaro diciamo quando lo avremo per il momento le lascerò grigie ora prima di passare al al bolter sull'altro marine dobbiamo andare a correggere le varie sbavature ovviamente tornando con il colore precedente ovvero il macragg blu macragg blu come si chiama l'abbiamo chiuso per bene e già che ci siamo magari ne approfittiamo per andare un pochino a a correggere le parti che magari nel mentre abbiamo visto richiedono un po' di correzioni anche sul blu ok non ho fatto tantissime sbavature a quanto pare praticamente qua il colore lo tengo praticamente non diluito perché principalmente perché per andare a coprire il nero avrò bisogno di un colore molto denso e comunque le aree si spera che siano molto piccole ok sul braccio andiamo a ripassare un po' di blu direi che va bene e direi che ci siamo stesso discorso si rifà col nero qua mi sono dimenticato di un pezzo alla fine del braccio e quindi andiamo a ripassarci andiamo a mettere più in qua per far vedere qualcosa vedete qua già il pennello come si sta sfaldando inesorabilmente queste setole così corte sono difficili anche da tenere a punta questo pennello alla fine di questi tre modelli purtroppo mi sa che ci saluterà e vi consiglio di andare in un negozio di articoli artistici o un colorificio e prendervi un pennello adesso magari ve lo farò vedere dimensione 1 che è un po' sulla stessa più o meno stessa dimensione di questo o 1 o 0 forse per cominciare è meglio usare un 1 ok va bene chiudiamo puliamo il nostro pennello ok a questo punto a questo punto questo lo togliamo mettiamo questo e farò il bolter anzi più che il bolter la copertura sempre col nero qua vale un po' lo stesso discorso fatto sul primo di colore perché in teoria qua è un'area a cui va data una base nera secondo il nuovo schema nuovo ormai da un po' che c'è anche perché una volta gli ultramarine avevano i i fucili requiem di uno sgargiantissimo rosso e non avevano le gli abbellimenti dell'armatura tipo l'aquila o gli spallati o il bordo degli spallacci dorati ma erano gialli la seconda compagnia è gialla e poi vabbè poi hanno cambiato l'hanno fatti più più seriosi potrei anche volendo passare una mano intera sul bolter di nero perché tanto poi il colore metallico è un colore molto bello tra le altre cose mi piace molto come colore e poi copre molto bene credo che il colore metallico della citadel copra meglio di una di una base di un colore base nonostante sia un colore metallico il led belcher che una volta si chiamava bolt gun metal si hanno cambiato i nomi dei colori non so per quale motivo alcuni me li ricordo tipo il nero si chiamava chaos black una volta e il il quello metallico si chiamava bolt gun bolt gun metal e adesso adesso non mi vengono in mente gli altri c'era il dark angel green credo adesso si chiami calibro no forse è il contrario il quello che adesso si chiama dark angel green una volta si chiamava calibro green forse non mi ricordo sinceramente ce lo dovrei anche avere da qualche parte sul bolter non sono così preciso perché tanto poi le parti dove ho sbavato dovranno essere ricoperte con il colore metallico va bene ovviamente poi come succedeva per il blu anche sul bolter dovremo fare più passaggi tipo qua vedete ma il nero rispetto al blu è molto molto più coprente copre molto meglio non può probabilmente non sarebbero neanche necessari più di due passaggi ma ne farò comunque un terzo va bene quindi questo conclude ovviamente la parte del tutorial che riguarda il nero sta ancora asciugandosi forse è già un po' più asciutto adesso come ho fatto prima passerò il nero su tutti i modelli su tutte le parti che lo richiedono e poi ci rivediamo per l'oro che sarà l'ultimo passaggio di questo tutorial riguardante i primaris ultramarine ok anche il nero l'ho passato su tutti i modelli adesso vi farò vedere il risultato ottenuto non è che ci sia tantissimo da vedere questo è uno secondo e il terzo ovviamente ci sono delle sbavature che non ho potuto correggere perché mi manca il colore metallico ma che correggeremo una volta che lo avremo so so che sembrano più meno puliti rispetto a quando ho passato il blu ci sono più sbavature ovviamente come ho detto le potremo correggere una volta che avremo a disposizione il colore argento o metallo qua cosa c'è da dire nel retro non so se si vede ma ho dipinto di nero il sotto diciamo della fondina per simulare una zona ombreggiata e la stessa cosa ho fatto all'interno degli spallacci sono zone che difficilmente si potranno essere viste perché sono abbastanza nascoste ma visto che comunque lo si può fare visto che queste braccia sono separate dal resto della miniatura ho deciso di farlo lo stesso in quest'ultima parte del video finalmente ci dedicheremo al terzo e ultimo colore di base in realtà dei colori che ci hanno fornito per dipingere gli ultramarini perché in realtà anche il colore metallico sarebbe un colore di base ma per questo per questo tutorial il colore oro il retributor armor sarà l'ultimo e riguarderà ovviamente principalmente il teschiolato sul pettorale i bordi degli spallacci e ho visto sui fascicoli che le hanno dipinti di blu e io li dipingerò d'oro invece questi specchi di bordi sopra le ginocchiere è già abbastanza blu per i miei gusti sono già abbastanza blu questi space marine fin troppo quindi io quelle parti lì le farò dorate voi fate le blu se preferite ma io le farò dorate si va bene e sui due bolter faremo i freggi dell'aquila sempre l'aquila l'aquila bicefala e il teschiolato va bene va bene come al solito mettiamo il nostro modello in posizione questo pennellino qua ho cercato di rifarci la punta ma la perderà molto velocemente cerchiamo di fare cercherò di dipingere questi dettagli che sono già abbastanza minuti con questo pennello ma sarà difficile qua ho di nuovo i miei due bicchierini d'acqua per questa parte del video li utilizzeremo entrambi allora andiamo sempre a prendere pochissimo colore con la punta e inizierò proprio da queste sempre dalle gambe allora trattandosi di una zona ad angolo conviene un bordo conviene utilizzando il bordo del pennello andare a passare sul bordo della miniatura e lasciare così il colore utilizzando proprio il bordo del pennello in queste aree che fanno da spigolo pur essendo una base questo oro mi sembra più che si comporti più da da layer non è molto coprente purtroppo cerchiamo di non sbavare sul blu con i colori metallici il problema dei colori metallici è che non si diluiscono esattamente come i colori normali generalmente ci si lavora meglio con il colore non troppo diluito adesso il pennello ha preso un po' più di colore e incomincia ci si incomincia a lavorare meglio va bene in più tendono a seccarsi molto rapidamente però devo dire che questo colore anche una volta che il pennello si è ammorbidito anche questo ha il suo perché non è male va bene passiamolo sulle sui bordi degli spallacci stesso discorso uso il bordo il lato del pennello qua è un po' troppo diluito qua forse si dovrebbe vedere un po' meglio rispetto a prima vedete che comunque sul grigio non prende proprio bene 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 ci vorranno diversi passaggi qua sto praticamente utilizzando il bordo del pennello e lo spessore della miniatura per cercare cercare di stendere il colore solo sulla parte che mi interessa che poi è il bordo ovviamente poi dovremo andare di nuovo col blu a correggere la parte diciamo esposta dell'oro già mi piace diciamo che già siamo già a un buon punto dobbiamo ovviamente fare il bordino interno che non sarà facile non dobbiamo farlo tutto buona parte di questo bordo è nascosto però dobbiamo dare l'idea che comunque la parte dorata continui anche oltre l'angolo diciamo di questo spallaccio questo pennello non aiuta sto cercando di rifarci la punta in qualche modo oltre l'angolo anche qua dobbiamo dipingere sotto i bordi ora diamo un'altra passata sulla parte frontale anche se sto cercando di sbavare il meno possibile purtroppo è inevitabile che qualche piccola sbavatura mi sfugga va bene e adesso ci dedichiamo all'aquila finalmente incredibilmente dovrebbe essere leggermente più facile rispetto al resto del modello dalle altre parti in oro ci vorranno almeno due o tre passate due o tre mani di colore per farla rendere bene dobbiamo stare attenti a non far finire l'oro diciamo sotto quel collare dell'armatura di colore Va bene, diamo un'altra mano, rapida, ed ecco che abbiamo dipinto i nostri dettagli in oro. A questo punto sicuramente alcune parti avranno bisogno di alcuni ritocchi dell'oro intendo, prima però, prima di fare questo, ci puliamo il pennello dall'oro e lo puliamo per bene, proprio per bene, perché adesso andiamo a correggere le sbavature che abbiamo lasciato con l'oro, ovviamente col blu. Qua ci servirà il secondo bicchiere d'acqua, perché le tinte metalliche hanno, al di là dei pigmenti, hanno delle piccole particelle metalliche, appunto, che non si disciolgono in acqua, ma che rimangono a galleggiare. Sono queste qua in particolare, non so se si vede, ma quest'acqua è leggermente... ha delle piccolissime microscopiche particelle argentate che galleggiano. Se io adesso andassi a diluire il colore, questo colore qua, che è un normalissimo blu, con quell'acqua lì, rischierei di contaminare il mio blu con dell'oro, o delle particelle metalliche comunque. Ecco per il perché dei due bicchieri. Questo pennello non ce la fa veramente più, ragazzi. Ecco per l'oro, ecco per l'oro, ecco per l'oro. Direi che più o meno ci siamo. Quello che doveva essere dipinto in oro su questo modello è stato dipinto. Potrebbe volerci un'altra mano diluita, ma purtroppo questo pennello non è più adatto allo scopo. Faccio vedere la punta, in che stato è. Non è possibile andare a fare i dettagli in oro, soprattutto queste aquile, questi fregi sui bolter, con questo pennello, ormai purtroppo. Anche fare soltanto questa miniatura qua, vi faccio vedere com'è. È stato abbastanza faticoso. In più, visto che qua stiamo già su dei dettagli abbastanza piccoli, minuti, sarebbe una buona idea farli quando si è abbastanza riposati e non al termine di una lunga giornata in cui ho registrato per fare questo video, cosa che penso che farò per evitare di fare grossi danni. Quindi, questo, diciamo, conclude la parte di tutorial riguardo la colorazione. Adesso staccherò e poi, in un altro momento, farò i dettagli in oro di tutti questi altri modelli. E poi ci rivediamo per i saluti. Vedremo i modelli, quello che ho ottenuto. Lo faccio rivedere questo qua, che è quello più completo. E poi chiuderemo con questo video. Ok, questo è il risultato finale, ragazzi. Ho passato, ovviamente, il color oro su tutti e tre i modelli. Ho ripassato un pochino anche gli altri colori. Adesso vi faccio vedere. Cercherò di farvi girare un po' i modelli, in modo da farveli vedere. Prima vi faccio vedere su questo bolter. È l'unico che non ho attaccato, perché devo ancora finire di dipingerlo ed è l'unico dei tre che non posso smontare. Ho montato le altre parti dei modelli, ma non le ho incollate, quindi le posso andare a smontare volendo. Gli zaini sono rimasti al loro posto. Ho passato solo il blu, perché l'altro colore degli zaini è il colore metallico che lo avremo con la prossima uscita. e adesso vi faccio vedere un pochino i modelli. e adesso vi faccio vedere un pochino i modelli. Va bene. Allora, sono abbastanza soddisfatto del risultato. Direi che sono venuti piuttosto bene, nonostante avessero quel problema al colore di fondo, il primer, avessero un minimo di frosting. Se non l'avessero avuto, probabilmente sarebbero rimasti ancora meglio. Si vedono un pochino di difetti sul ginocchio sinistro di questo modello, purtroppo. Ma complessivamente sono abbastanza soddisfatto. Allora, ovviamente li vediamo con i colori di base. I colori sono molto piatti, giustamente così deve essere, perché poi tutti gli effetti verranno dati in passaggi successivi. Bene, io a questo punto vi saluto. Non mi resta altro da fare che salutarvi. Spero che questo video vi sia piaciuto. È stato abbastanza complicato realizzarlo. Spero che, al di là del fatto che possa essere piaciuto o meno, che possa magari essere utile a qualcuno che si sta avvicinando a quest'hobby. Si trovano parecchi tutorial. Non se ne trovano tantissimi in italiano. Questo, secondo me, è un tutorial abbastanza base. Non pretendo di essere un esperto. Non mi considero assolutamente un esperto. Però penso di aver dato dei consigli utili. Bene. Quindi, ci vediamo nel prossimo video, che probabilmente riguarderà il quarto fascicolo, che uscirà, penso, dovrebbe uscire tra pochi giorni. Non so adesso quando pubblicherò il video, ma in ogni caso, o sarà già uscito da poco, o sarà uscito da poco, o dovrà uscire entro poco tempo. Per il momento è tutto, e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti. Ciao. 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 Grazie.